Per chi sta dimostrando questa tenda? Si può dire la regione a pulso, si è attivato per montare questa tenda qui. Per che cosa serve questa tenda qua? Guarda, noi abbiamo soltanto indicazioni di montarla e poi una volta pubblicato loro provvedono a metterci, non so, chi ci deve spiegare. Prima però ti hai detto che serve per i bisognosi, chi me l'ha detto questo? Sì, così ci hanno riferito che era per l'accoglienza. Delle persone al momento sono, diciamo, quelle senza tenda. Ma non è per qualche quarantena questa tenda? Per qualcuno che deve stare in quarantena? Sì, così non sappiamo. Cosa c'è dentro la tenda? Dentro la tenda noi verranno vestiti a questi termosiconi, i stessi, i materassi e per i terrestri. E le altre cose che succedono per i cambi di accoglienza oppure quando siamo partiti, attivati con le comunità per noi. Quindi voi la state montando, però non sapete per cosa.